Avigliana, 20 chilometri da Torino, porta della Valle di Susa, è una realtà comunale in fermento. Il PNRR ha portato sul territorio una serie di progettualità e di risorse così importanti da poter dire che sta davvero cambiando il volto ad Avigliana. Entro il 2026 consentirà la realizzazione di una serie di servizi come mai prima d'ora. Passando in città non si può non accorgersi dei cantieri in atto. I tre più grandi e importanti costeggiano l'arteria stradale di Corso Laghi. Si tratta del rifacimento completo della Piazza del Popolo, la ristrutturazione dell'edificio Casa del Popolo e della costruzione della nuova sede della succursale dell'Istituto di Scuola Superiore Galileo Galilei. La città metropolitana di Torino ha creduto molto nei progetti di Avigliana da finanziare con il PNRR ed ha investito anche fondi propri per consentirne tutta la copertura necessaria. Il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo ha effettuato un sopraluogo con il sindaco di Avigliana Andrea Archinà e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Remoto. La trasformazione del centro passa dalla nuova Piazza del Popolo, dove ora il cantiere dei lavori in corso lascia solo presagire la piccola grande rivoluzione che il prossimo anno vedrà meno cemento e più verde per una piazza accogliente e pedonalizzata. Saremmo stati in grado molto probabilmente di portare a casa questo risultato, se non grazie alle progettualità del PUE e alla collaborazione ovviamente di città metropolitana. Un obiettivo ambizioso di ridisegno della città e di riallocazione anche delle sue funzioni strategiche. L'ulteriore tassello era appunto il ridisegno di una piazza, che oggi era più un parcheggio, una rotatoria abbinata alle funzioni sociali pubbliche che verranno appunto allocate nella casa del popolo.